Salve e benvenuti a Qui Regione, l'appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale della Toscana. Meno burocrazia per i tagli boschivi, lo chiede a gran voce il Consiglio regionale della Toscana che ha approvato a maggioranza una proposta di legge in questa direzione. Con una proposta di legge nazionale, la Regione Toscana propone di modificare l'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio specificando che gli interventi di taglio culturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e conservazione non sono più soggetti all'autorizzazione paesaggistica, nemmeno quando interessano boschi e foreste ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico. Le parole della Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, Ilaria Bugetti. Questa è una piccola economia della Toscana, ma a mio avviso ha più a che vedere proprio con la manutenzione. Una manutenzione storica che fa della nostra Toscana anche la bellezza dei nostri luoghi, delle nostre colline e delle nostre montagne, che è diventata un'esigenza oggi più che mai perché mantenere il bosco vuol dire mantenere fosse, vuol dire evitare anche il dissesto idrogeologico e con questa legge al Parlamento noi proviamo a chiedere che vengano trattati alla stessa stregua due elementi, due boschi che poi alla fine sono gli stessi. Spesso per tagliare un bosco ci sono dei tempi, anzi quasi semplici, ci sono dei tempi, c'è una finestra in cui bisogna intervenire e alleggerire la burocrazia in questi particolari appezzamenti ex articolo 136 vuol dire consentire di arrivare nei tempi corretti per consentire il taglio di un bosco sempre nella legittimità e con tutte le autorizzazioni necessarie. Però fa parte dell'economia della Toscana, fa parte dell'economia della montagna, fa parte della cura di un territorio, spesso in zone che vengono lasciate a se stesse e anche disabitate, quindi vuol dire avere a cuore un'economia di quella toscana interna che può mantenere e fare anche agricoltura in un luogo che è sicuramente più lontano dalle periferie e per questo ha bisogno secondo me di avere, non dico un'opportunità in più, ma le stesse opportunità di altri territori. La proposta di legge approvata a Firenze mette in pratica il contenuto di due mozioni votate a larga maggioranza dal Consiglio lo scorso dicembre, che appunto impegnavano la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti di Roma, del Governo e del Parlamento, per definire con chiarezza la normativa statale in materia, a partire proprio dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ma perché la Regione Toscana ci tiene tanto a modificare questo codice? Per capire meglio conviene fare un passo indietro fino a giugno 2020, esattamente un anno fa. Allora il Consiglio di Stato, accogliendo in parte il ricorso di alcune associazioni ambientaliste, Italia Nostra, WWF, Grosseto e LAC Toscana, contro il piano antincendio per le pinete costiere di Grosseto e Castiglione della Pescaia, aveva stabilito che per poter effettuare il taglio dei boschi nelle aree di notevole interesse pubblico, fosse necessaria, oltre a quelle già previste dalla legge forestale della Toscana, un'ulteriore nulla osta dalla soprintendenza. La sentenza aveva provocato, come è facile a immaginare, reazioni di segno opposto, l'esultanza degli ambientalisti, le proteste del mondo agroforestale e dei comuni montani. Di Deregulation sui tagli boschivi parla Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, contraria a questa proposta. Sono state proposte in Commissione due leggi, una regionale e una nazionale, che sarà incardinata al Parlamento. La prima è naufragata semplicemente per illegittimità costituzionale, sarebbe stata impugnata, e anche per il fatto che il Governo con l'ultimo decreto semplificazioni ha detto chiaramente che non si poteva andare nella deregulation come il Partito Democratico, ma anche il resto dell'opposizione ha voluto, ma serviva una semplificazione procedurale, questo sì, ma certamente non annullare le autorizzazioni che dovrebbero tutelare tutti i paesaggi di maggior pregio della nostra regione, dei quali ci vantiamo spesso quando andiamo a fare promozione turistica, ma che ci dimentichiamo di tutelare o addirittura cerchiamo di superare in qualche modo. Sono state date le giustificazioni più svariate che riguardavano l'agricoltura, l'interesse, io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e negli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare, e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al Governo e lo segneremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste che sono tutelati dal Mibact per il paesaggio e per il loro valore ambientale e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza, vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni, prima ancora che beni economici. Soddisfatti invece per la possibile riduzione della burocrazia sui tagli boschivi Marco Casucci della Lega, Diego Petrucci di Fratelli d'Italia e Vincenzo Ceccarelli del PD. Noi abbiamo semplicemente chiesto con la proposta di legge che è stata approvata al Parlamento di intervenire non per fare cose particolarmente rivoluzionari o per trovare soluzioni che vadano a penalizzare il bosco, ma semplicemente per tornare al regime che era vigente prima del luglio dello scorso anno. Una maggiore semplificazione, minori costi per le tante, spesso piccole aziende del settore che sono agricole o che sono artigiane per consentire di poter rispettare quella che è la tradizione del bosco toscano. Il 9 di dicembre l'Aula del Consiglio regionale approvò due mozioni, una del gruppo della Lega e un'altra del gruppo del Partito Democratico, sostanzialmente con contenuto affine. Cosa si voleva? Si voleva che si riducesse i tempi e i contenuti della burocrazia che grava anche sulle aziende boschive. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali. Guardate, quello che veramente nuoce alla economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire, di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che chiediamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire però, perché ritengo giusto prendermi le responsabilità come Partito, ma direi come Governo, come tutti, occorre muoversi. Perché noi questo segnale al Parlamento lo avevamo già dato il 9 di dicembre. Ora occorre muoversi e far sì che veramente vi siano delle novità. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno. Perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo. Ovvero il bosco sta mangiando la montagna. Mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli, eccetera, eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ci sono in questo momento decine di migliaia, per non dire di più, di piante in terra che sono cadute quest'anno sotto la neve e nessuno pensa a raccattarle. Creano un rischio idrogeologico, creano un rischio incendio. Ecco, in tutto questo gli ultimi custodi della montagna, gli ultimi baluardi che cercano di costruire il bosco e la montagna sono i boscaioli. Alleggerire il carico di burocrazia che grava sulle spalle di queste società, di queste imprese, di questi uomini che fanno a volte anche di queste donne, perché ci sono anche delle donne che fanno questo lavoro durissimo, penso che sia una battaglia di giustizia. Quindi Fratelli d'Italia ha convintamente votato a favore di questa richiesta che il Consiglio regionale fa al Parlamento italiano. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in apertura della seduta del 22 giugno, ha comunicato che la discussione e approvazione della cosiddetta legge sui direttori è stata rinviata e l'atto sarà riportato in aula il 6 luglio dopo un ulteriore passaggio in commissione. La legge che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale, che era stata già licenziata un paio di settimane fa dalla Commissione Affari Istituzionali, tornerà in aula il prossimo 6 luglio dopo un ulteriore passaggio in commissione. Lo ha comunicato all'aula stessa il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, spiegando che il rinvio è dovuto al fatto che sono pervenute ulteriori osservazioni da parte della Corte dei Conti. Oggi in Consiglio regionale la legge, la nota legge sul personale di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni a mezzo stampa è tornata dopo essere stata proposta all'aula in commissione. Quella legge infatti contiene prevalentemente, se non esclusivamente, aspetti che sono relativi ad alcune osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto in occasione dell'ultimo giudizio di parifica alla Regione Toscana ed era preciso intendimento da parte mia come Presidente di Commissione e anche da parte del gruppo del Partito Democratico quello di fare una legge che esclusivamente recepisse quelle indicazioni. Per questo nei lavori della Commissione da me presieduta sono stati votati alcuni emendamenti a mia firma che hanno tolto tutte quelle parti di questa legge che non erano relativi ad aspetti richiesti dalla Corte dei Conti. Tuttavia, nelle more della seduta dell'Aula sono emersi ulteriori rilievi da parte della Corte dei Conti, rilievi che sono stati trasmessi informalmente ai competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta e che si dovranno tradurre in ulteriori emendamenti da portare a quella legge. Questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico tra il Presidente Bugliani e il Governatore Gianni ma stavolta torna in Commissione non per bagarre politica ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore negli ultimi giorni, nelle ultime ore e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo. Paradossalmente verrebbe da dire che meno male hanno litigato Gianni e Bugliani almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimetter mano ecco, stavolta è semplicemente un passaggio tecnico va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori non segreti ma pubblici perché in Aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore. Noi ci siamo sempre approcciati a questo provvedimento con un principio occorre indubbiamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni della Corte dei Conti l'argomento è un argomento prettamente tecnico e che in realtà diciamo si esaurisce in un adeguamento normativo quindi noi su questo siamo molto chiari prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere però arriviamo diciamo a trovare una quadra che sia però strettamente legata alla conformazione alla normativa della Corte dei Conti a ciò che ci impone diciamo l'indirizzo della Corte dei Conti quindi noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai come dire è da fine anno scorso che si viene diciamo portata all'attenzione dei commissari però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta cioè un adeguamento. Non accettiamo forzature non le abbiamo mai accettate anche quando il Presidente Leggiani si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che i commissari fosse stato sottoposto alla preventiva attenzione su questo devo dire che come opposizione ci siamo sempre imposti nel rispetto pieno di questi principi a questo punto vediamo quello che sarà nell'ulteriore approfondimento nell'ulteriore istruttoria che verrà fatta in commissione il testo che verrà licenziato Ci sono degli aspetti riguarda questa legge che non ci convincono e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati a essere maggiormente problematici è necessario fare una legge che si attenga bene a quelli che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia diciamo una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine per questo credo che un ulteriore passaggio in commissione sia importante anche con delle eventuali proposte emendative Tutti i capi gruppo quindi d'accordo con il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo nel rinviare il testo in commissione per esaminare le ulteriori modifiche impegnandosi poi ad approvare la legge nella successiva seduta del 6 luglio Partito Democratico e lega dalla stessa parte nel chiedere con toni perentori al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini un commissario e l'inserimento tra le priorità l'adeguamento dell'Aurelia I ritardi accumulati nell'ultimo mezzo secolo per quanto riguarda il corridoio tirrenico sono dovuti a mancati finanziamenti e accordi mai trovati adesso che gli accordi ci sono è il momento però di agire la regione toscana e i comuni hanno già approvato il progetto manca solo il commissario e l'inserimento dell'opera tra le priorità e qui diventa centrale il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini nel mirino di Lega e PD forze di governo a Roma eppure fortemente critiche in Toscana rispetto a come l'esecutivo Draghi sta trattando l'adeguamento dell'Aurelia noi chiediamo che venga inserita tra le priorità anche perché ormai è una passatemi il termine molto mare in mano una novella dello stento che dopo che abbiamo trovato l'accordo fra i vari enti locali abbiamo trovato tutto ci manca praticamente il commissario e quindi portare finalmente a termine quello che è un problema toscano infrastrutturale direi non voglio esagerare ma stiamo arrivando al secolare quasi quindi credo che sia l'ora di mettere una parola fine a questo problema a margine dell'assise fiorentina in cui si è dibattuto anche della tirrenica il consigliere grossetano Andrea Ulmi della Lega ha rinforzato il concetto espresso dalla collega Donatella Spadi il 27 gennaio scorso il presidente Bargone aveva detto che ormai non era più competenza di Sat per cui era di Anas ora si ritorna di nuovo a creare un problema sulla questione ci sono state anche delle perse di posizione da parte delle associazioni in particolare da parte della Camera di Commercio che noi sosteniamo perché a un certo momento noi riteniamo che se uno guarda la piantina dell'Italia il tratto grossetano mare in mano è l'unico senza autostrade non pretendiamo l'autostrada ma una Aurelia in sicurezza sicuramente sì Accenti in Toscana sono le storie di Giovani Sì nate dai fondi per promuovere e favorire l'autonomia dei giovani ben 235.000 visualizzazioni sui social Facebook YouTube e Instagram per le prime due puntate di Accenti in Toscana il format video di fondazione Sistema Toscana ideato per raccontare le storie dei ragazzi coinvolti dal Giovani Sì il progetto della regione toscana nato per promuovere e favorire l'autonomia dei giovani Accenti è il percorso di storytelling di Giovani Sì che raccoglie le storie dei giovani che hanno beneficiato delle opportunità promosse dal progetto regionale con il format video Accenti in Toscana ogni puntata è un viaggio sul territorio toscano per incontrare sul posto i giovani e conoscere e raccontare le loro esperienze martedì scorso è andata in onda online la terza puntata incentrata sul bando specifico dedicato ai giovani agricoltori scaduto di recente che prevedeva aiuti a fondo perduto pari a 30.000 euro che possono diventare 40.000 se l'azienda agricola si trova in aree montane in sette anni i beneficiari toscani fino a 40 anni sono stati ben 1200 nei prossimi mesi ci sarà un ulteriore scorrimento della graduatoria non appena le risorse saranno di nuovo disponibili nell'ultima puntata si narra le storie possibili di Camilla Ferrario e Flavia Maggi due ragazze beneficiari del bando che grazie ai contributi economici ricevuti hanno potuto ampliare le proprie attività dando maggiore continuità e prospettiva alla propria vita e a quella della loro famiglia Camilla mamma di tre bambini e un passato da educatrice ha 36 anni e gestisce insieme al marito l'azienda agricola situata nel borgo di Mercatale Valdarno in provincia di Arezzo l'azienda che ha anche fattoria sociale e didattica di recente ha vinto l'Oscar Green di Coldiretti con i fondi ricevuti Camilla ha creato un'area senza barriere architettoniche ha riqualificato il suo oliveto e i terreni per la produzione degli ortaggi Flavia ha 32 anni ha invece una laurea in scienze della pubblica amministrazione gestisce l'azienda agricola arreditata dal nonno nel comune di Castigliondorcia e grazie al contributo del pacchetto Giovani Si ha acquistato attrezzi leggeri e maneggevoli per il suo oliveto ha costruito una rimessa per le olive e un'altra per lo stoccaggio dell'olio infine si è dotata di abbattitori e tele ha rimodernato la struttura dell'agriturismo e ne ha migliorato l'efficientamento termico Era questo l'ultimo servizio Qui Regione finisce qua grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di visione qui su TV9 Grazie a tutti